E' stata rimandata al mittente la pianta organica dell'ASP di Agrigento. Sì, praticamente sì, perché l'assessorato alla sanità vuole tutta una serie di diverse delucidazioni da parte del direttore generale in merito al personale e alla spesa per il personale e poi due giorni dopo l'assessorato ha mandato una nota in cui impone il rispetto del decreto assessoriale di luglio che prevedeva l'inserimento degli ex LSU, dei precari, quindi dei lavoratori a contratto, nella pianta organica cosa che noi abbiamo sostenuto fin dall'inizio. Noi il giorno 29 ottobre abbiamo fatto una manifestazione per questo, abbiamo fatto uno sciopero. Lo stesso giorno 29 ottobre, a fine mattinata, è arrivata questa circolare da parte dell'assessorato alla sanità in cui si ribadiva che i contratti sarebbero stati rinnovati per altri cinque anni, tutti i contratti in scadenza nell'emore della stabilizzazione del personale e richiamava appunto la circolare che prevede l'inserimento delle spese del personale precario nella pianta organica. Dunque aveva un fondamento lo sciopero del 29 ottobre ad Agrigento? Sicuramente è stato mirato, andava mirato proprio su Agrigento perché sempre la direzione generale dell'ASPE, sempre l'ASPE di Agrigento a dover fare la pianta organica, ora in questo modo dovrà rimodulare la pianta organica inserendo i lavoratori precari. Noi abbiamo già chiesto un incontro, era già chiesto un incontro, previsto un incontro in prefettura per quanto riguarda un incontro tecnico con il direttore dell'ASPE e poi abbiamo chiesto pure un incontro al Presidente della provincia per quanto riguarda invece la parte politica, prettamente politica della vicenda. Allora... 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 Grazie a tutti